ciao a tutti cari amici e amiche dello scrigno dei segreti tv grazie per essere anche oggi in nostra compagnia nei scorsi video vi avevamo accennato che l'attore turco jan yaman sarebbe tornato presto in italia già nel gennaio 2021 vi abbiamo svelato che sarà il protagonista di una nuova miniserie tv italiana insieme all'attore luca argentero ma oggi vi parliamo di un altro progetto lavorativo dell'attore in quanto il lavoro per jan yaman in italia in quest'ultimo periodo sembra andare a confie vele l'attore di daydreamer le ali del sogno d'altronde ha conquistato il cuore di migliaia di italiani che hanno richiesto a gran voce la sua partecipazione nel mondo della tv e del cinema nostrano ma vediamo subito il tutto nel dettaglio jan yaman tornerà in italia anche per girare una nuova pubblicità in particolare una pubblicità per una famosa marca di pasta si tratta della marca de cecco l'attore turco infatti affiancherà claudia gerini nella nuova campagna che sarà lanciata nei prossimi mesi il nuovo spot pubblicitario sarà girato dal regista turco ferzan o zupetec vecchia conoscenza di jan yaman e il protagonista sarà proprio lui jan yaman l'attore turco ad occuparsi della campagna sarà l'agenzia creativa loro che ha ideato le ultime campagne dell'azienda di pasta recentemente l'azienda ha rinnovato fino al 2022 la partnership con la juventus i giocatori della squadra torinese infatti sono comparsi nello spot lanciato a marzo del de cecco sarà emozionante vedere il volto di jan yaman oltre che nelle serie tv anche nelle pubblicità e nella nuova serie italiana insomma l'attore girerà sui nostri schermi italiani un bel po' nei prossimi mesi e noi non possiamo che esserne davvero felici che ne pensi di jan yaman come testimonial della marca italiana di pasta de cecco scrivici la tua giù nei commenti siamo davvero curiosi iscriviti al canale per restare sempre aggiornato aggiornata in più se attivi la campanellina in basso a destra accanto al pulsante iscriviti riceverai una notifica appena pubblicheremo un nuovo video questo ti permetterà di essere tra le prime persone a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e sui suoi protagonisti